buongiorno oggi è martedì 16 luglio sono le 8 e 25 mentre in italia sono l'1 e 25 del mattino vi faccio vedere quello che ho trovato e acquistato ad Akihabara ho trovato le carte fisiche di kingdom hearts chain of memories non credo che sia una carte da gioco piuttosto solo di come si dice da esposizione non ne sono sicuro lo capirò una volta aperte le aprirò quando arriverò a casa sono costati 3.080 yen qualcosa tipo 18 quasi 10 saranno 18 euro dai quasi 18 euro e poi ho preso un dioramino piccolo piccolo in plexiglass di phoenix wright penso che in giapponese si chiami gyakuggen saiban una roba del genere è un po ai minimi termini c'è lo sfondo del tribunale c'è la cornicina da mettere davanti e ci sono i due protagonisti da mettere nel mezzo è meglio di niente è molto carino Alessandra ha preso una eva 01 però l'è costata 30 euro questo mi è costato soltanto 6 12 saranno 15 euro prima tappa della giornata così cominciamo piano piano e questo è il santuario ma che sono considerato due divinità quindi loro saranno è buon auspicio passare sotto il l'ingresso questo qua e solo qui vengono registrati più di tre migliori di persone di visitatori soprattutto nei giorni appena prima che una volta fatturata per la prima preghiera e quando entriamo ci sono riuscite a collegarlo va bene che ci sono i miei conferti per oggi grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Adesso mette 400 ghimmonetini. Vediamo. E' il cane. No, veramente? E' il cane. Oddio, che carino. Vediamo un altro. Vediamo un altro. Aspetta, saluta. Ciao. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma sono banane queste? Che profumo di dolci. Sono enormi. Sono enormi. Sono giganteschi. E' il cane. Vediamo un altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, parla tu, ti prego. Molto bene. Avete presente quei bellissimi video orientali dove fanno la palla di frittata che poi tagliano e coprono il riso e tutto quanto? Questa è, sono omelette ripiene di riso in tutte le salse, guardate che belle. Ne abbiamo presa una da dividere con il beef premium che è questa qua. E poi il menù è gigantesco e si gira. Abbiamo provato quella col cadde. Quella con il beef? Questa qua. Ah, per antese. Questa ce la dividiamo e poi abbiamo preso con il beef premium. Mmm, buone, bravi. Giornamento 1. Ci hanno portato, prima del mangiare, un bicchierino di brodino di miso caldo che sta bene visto che sta piovendo fuori. E c'è l'aria condizionata comunque. E da prepista è saporitissimo. Non ci sono alghe tofu, niente. Questo si beve da solo, è buonissimo. Acqua ghiacciata. E ci portano sempre così, tamle. E adesso vediamo quando ci arrivano i mega piattoni. Signori, è qui. Un curry giapponese, la frittata, il riso, solo. E tu, invece, con un manzo di qualità. Questa si taglia. Prova a tagliarla. Così, la taglio. No, prova a fare il taglio. Ah, beh, perché ce la dobbiamo mangiare. No, non lo taglia così. Però è bella grande. Metti la manina vicino. Beh, buon appetito. Mmm. E alla fine, dopo aver goduto di quello spettacolo, gelatino al mango con panna e mango. Mango e mango. Com'è? Ah, che dolce. Eh, non bastavo io. No. Bene. No, spero che. No. No, be auguro. No. No. No, sì. Una. No. 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 No, no. Grazie a tutti. Oh, vabbè. Eh, vabbè. Qui finiamo i soldi. Luigi! Lì c'è Mewtwo! Oh! Oh! Ragazzi, quello è il numero 151. O 150. Non mi ricordo. Se viene prima Mewtwo. A Mewtwo. Grazie a tutti. 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 Che bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alessandro, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.